Intanto la classifica la comanda sempre il Cagliari, unica squadra imbattuta del campionato, vittoriosa oggi sulla Ternana con un secco 2-0 che porta a 21 il totale delle reti segnate in 14 gare. Anche se domenica c'è Monza-Cagliari, Riva e Tidia che conducono il Cagliari possono stare tranquilli. La vittoria che la Ritana l'hanno siglata con una rete per tempo, Quagliozzi, ecco appunto il suo gol, e nella ripresa Bellini, così come vi mostriamo.